Per i bagnanti, nel senso, l'aggosta dell'acqua è ovviamente una bagnante, semplicemente fa durare più o meno fatica, e già vedesse il cavallo che ha, cioè, bisogna essere gradatamente costato. La durata del lavoro è la velocità, perché qui si arriva da calcolare. Però, lontanamente, ci sono le gradualità. Il cavallo che è fatto da zero, non può, per esempio, chiederebbe a livello muscolare, a livello azionale, un po' sforzo.